Buongiorno a tutti, quello che facciamo oggi, noi sappiamo perché, perché oggi è una manifestazione, noi vogliamo per messo soggiorno per tutti, una semplice strada, noi vogliamo per messo soggiorno a tutti, noi sappiamo che questo governo ha già fatto una sanatoria, una sanatoria e anche molto difficili, quello che leghiamo, quello che è articolo, molto difficili per fare, per presentare domanda, noi vogliamo quello che è fatto una burocrazia, quello dentro domanda, noi vogliamo, no, elimina tutta la burocrazia, noi vogliamo una guida dritta, una guida dritta perché è semplice, perché noi vogliamo tutti per messo soggiorno, quello che Caldastini è presente in Italia, noi vogliamo leggi uguali per tutti, poi avere il farmaccio soggiorno, fare domandare il farmaccio soggiorno, fare prendere il farmaccio soggiorno, perché chi paga tassa, chi lavora, altri settori, perché questo governo, sanatoria, ha fatto solo due settori, un settore sull'agricoltura, un altro è domestico, quindi noi vogliamo fare domanda da tutti i tipi di settore. Che presentano un lavoro, un lavoro si presenta, un clandestino che si presenta per avere permesso di soggiorno, noi vogliamo che possano chiedere tutti, chi paga tasse, possono avere il permesso di soggiorno, questo e vogliamo, non vogliamo dire che lui possono avere, lui non possono avere, questo non vogliamo sapere.